Per tornare a far crescere l'economia europea serve uno sforzo congiunto dell'Europa e dei singoli paesi membri. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, al quarto business forum delle imprese italo-tedesche a Bolzano. Secondo Squinzi, la situazione richiede uno sforzo significativo, forte e coeso, visto il momento delicato e incerto. Per le associazioni delle imprese di Italia e Germania, il forum a cui partecipa anche il presidente della BDI, Ulrich Grillo, è un momento di confronto proprio per trovare risposte alle sfide della globalizzazione e della crescita. Tra le soluzioni proposte c'è la valorizzazione del settore manifatturiero e la sua integrazione con i servizi, inoltre Confindustria e BDI. Sono convinte che per assicurare una crescita sostenibile a livello europeo servono investimenti in ricerca, innovazione e istruzione, anche rafforzando le sinergie e le collaborazioni tra università, centri di ricerca pubblici e imprese.